E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Ogni impresa, per avere più possibilità di successo, dovrebbe organizzare la propria attività dopo aver costruito, a monte, un proprio modello di business capace di esaltare quei valori aziendali che meglio rispondono alle attese del mercato. Ecco come Confartigianato vuole aiutare in questo senso i propri associati. Costruire un piano organizzativo che consenta all'impresa di comunicare e mettere in luce i propri valori nei confronti dei potenziali clienti, individuati come tali perché prodotti e servizi offerti sono costantemente conformati alle loro aspettative, ovvero a ciò che per essi è un valore. Un impegno questo non sempre facile, soprattutto perché implica la capacità di mettersi in discussione, di abbandonare talune abitudini, di cambiare strada se necessario. Numerosi imprenditori, come mostrano queste immagini, hanno già colto l'opportunità offerta da Confartigianato Vicenza, nell'ambito delle iniziative del programma Innovarti, di imparare una tecnica, sperimentata con successo in tutto il mondo, per progettare agevolmente una propria strategia aziendale attraverso il modello Canvas. E visti i lusinghieri risultati ottenuti, per gli interessati verranno avviati a breve due ulteriori percorsi formativi. Quando si parla di modello di business si parla di valore. Il modello di business è la logica attraverso la quale un'azienda, un'organizzazione, crea, distribuisce e cattura valore. Questo è importante per tutte le aziende, piccole o grandi che siano, e anche per gli imprenditori che lavorano da soli. Focalizzare come si produce valore, quanto il valore che si produce è percepito dai propri clienti. E nello specifico Canvas cos'è? Il business model Canvas è un metodo visuale che consente di mettere a fuoco il proprio modello di business in maniera chiara, semplice, in un foglio, con dei post-it, in modo da analizzarlo, da metterlo a fuoco e, se è possibile, di innovarlo. Confartigenato ripropone questa esperienza con una formula diversa rispetto all'anno scorso. Certo, l'esperienza positiva dell'anno scorso ci spinge a riproporre il percorso di quattro giornate formative sul business model Canvas per le aziende che siano disponibili a portare in aula la loro esperienza personale e per evolvere il proprio modello di business. Quattro giornate formative a Trissino, a cui seguiranno due giornate formative a Schio sul personal business Canvas. Questa è la novità di quest'anno, rivolto non tanto alle aziende come organizzazione, ma ai singoli imprenditori che vogliono prendere in mano la propria attività individuale e svilupparla e, se possibile, innovarla e migliorarla. Due, dunque, i percorsi formativi proposti nel contesto dell'edizione 2016 di Innovarti. Il primo, per le imprese, verrà presentato il 20 aprile prossimo a Trissino, in Villa Trissino Marzotto, adesioni entro il 18. La presentazione invece del personal canvas rivolto alle imprese individuali si terrà a Schio l'11 maggio al Megab in Via Paraiso, adesioni entro il 9 maggio. Per ogni dettaglio, rivolgersi all'area strategia d'impresa di Confartigianato Vicenza.